Tutte le batterie richiedono lunghi tempi di ricarica solo se vogliamo sfruttare al massimo la loro capacità di accumulo. Questo perché una parte della capacità di accumulo può essere caricata soltanto in modo lento, non veloce. Facciamo un esempio. Ci sono alcune batterie che possono essere caricate fino all'80% in 30 minuti, ma per caricare il rimanente 20% sono necessari altri 30 minuti. Questo è proprio quello che succede nei veicoli elettrici. In questo caso vogliamo sfruttare al massimo la capacità di accumulo delle batterie per massimizzare l'autonomia del veicolo. Nei veicoli elettrici ci sono generalmente batterie agli ioni di litio, analoghe a questa. All'interno di queste sono avvolti degli elettrodi collegati rispettivamente al polo positivo e al polo negativo della batteria. All'interno avvengono delle reazioni elettrochimiche che consentono di convertire l'energia elettrica in energia chimica, modificando la struttura e la composizione chimica proprio di questi elettrodi. In una batteria scarica il litio è prevalentemente all'elettrodo positivo. Per caricarla imponiamo un flusso di elettroni dal polo positivo al polo negativo della batteria, al quale si associa un flusso di litio dall'elettrodo positivo all'elettrodo negativo. Si accumula quindi energia elettrica trasferendo litio all'elettrodo negativo. Durante la scarica si ha il processo inverso che avviene spontaneamente. Gli elettroni fluiscono dal polo negativo al polo positivo e al tempo stesso il litio fluisce dall'elettrodo negativo all'elettrodo positivo. In questo modo l'energia chimica è di nuovo convertita in energia elettrica a meno di alcune inevitabili perdite e il litio è trasferito nuovamente all'elettrodo positivo. Quindi il contenuto di litio degli elettrodi determina lo stato di carica della batteria, ma questo influenza anche la differenza di potenziale delta V che si misura ai poli della batteria. Si misureranno ad esempio 2,8 volt quando lo stato di carica della batteria è 0, mentre si misureranno 4,2 volt quando lo stato di carica della batteria è 100%. Per incrementare la velocità di carica bisogna trasferire più velocemente litio ed elettroni, ovvero bisogna incrementare la corrente elettrica I imposta tra i poli. Questo però determina un incremento della differenza di potenziale a causa di resistenze interne alla batteria associate alle reazioni elettrochimiche e al trasporto di litio. La differenza di potenziale ha un limite massimo oltre il quale si degradano i materiali degli elettrodi a causa di reazioni elettrochimiche indesiderate. Caricando la batteria ad alta corrente si raggiunge questo limite massimo ed è quindi necessario ridurre gradualmente la corrente, ovvero la velocità di carica. È quindi possibile caricare una batteria ad alta corrente fino ad esempio all'80% impiegando 30 minuti. Per ricaricare il rimanente 20% saranno necessari altri 30 minuti perché si opererà a bassa corrente. Incrementare ulteriormente la corrente nella prima fase di carica non dà effetti significativi, si riduce infatti di poco il tempo complessivo e tuttavia si vanno a incrementare stress termici e meccanici a cui è sottoposta la batteria e si riduce pertanto l'attesa di vita. Ci sono grandi sforzi per migliorare la tecnologia delle batterie, in particolare quelle al litio. Ad oggi però lo stato di evoluzione non fa prospettare rivoluzioni nel breve periodo.